ciao a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video oggi volevo portarvi un'applicazione che potete scaricare per esempio per pagare a rate se qualcuno è interessato a questa applicazione si chiama amaclarna infatti questa applicazione serve per pagare a rate massimo tre errate potevano mettere cinque rate serate però va bene già ci accontentiamo vi ho fatto vedere anche questa applicazione l'altra volta che serve a guadagnare camminando invece questa applicazione è un'applicazione che serve ad acquistare i vostri prodotti come scaricarla basta andare su play store scrivete questa app che ora vi faccio vedere subito andando su play store eccola qua la potete aggiornare la potete utilizzare quando volete voi infatti questa applicazione la potete utilizzare come ebay come amazon ma vi faccio vedere come funziona allora noi andiamo su amazon scriviamo un prodotto che vogliamo acquistare le potete anche salvare nei preferiti se il prezzo del prodotto cala veramente un'ottima soluzione poi potete per esempio il prezzo di queste cuffiette con spedizione è di 160 euro io prezzo di queste cuffie le si stiamo su buzz pro più in cui costano il prezzo di restino 230 se noi possiamo gestire un pagamento fino a tre errate in qualsiasi negozio online con la vostra carta di pagamento posta pay posta per evolution vedete se accetta la vostra dei comunque maggior parte delle carte a mastercard l'accetta sicuramente basta creare il posto importo massimo e di 1000 euro per esempio se facciamo 1500 non lo può fare infatti importo massimo è di 1000 euro in queste tre errate ad esempio metto il prezzo di 220 vi dice che potete pagare in tre errate infatti come vedete anche sotto potete pagare con nessun interesse con visa mastercard per arrivare a un costo di 220 euro mi raccomando ragazzi quando arriva quel giorno infatti l'app vi dice diciamo il prezzo totale ogni mese primo giorno oggi per esempio pagare 73 mese prossimo pagate altri 73 e dopo tre giorni pagate altri 73 euro in totale di 220 euro potevano mettere secondo me cinque erate ma comunque ci arrangiamo per quelle che sono ogni mese dovete pagare il vostro finanziamento per avere questo determinato prodotto a casa è un'app che vi consiglio di scaricare e provare se qualcuno non vuole fare un finanziamento e pagare 30 rate o 20 rate al mese e vuole pagare in poche rate questo è anche un buon finanziamento per esempio per prodotti a di sotto dei 1000 euro un telefono da 500 euro pagate circa samsung galaxy s 21 e ha un prezzo di 582 euro paga poi anche quando vuoi procedere un pagamento tocca creare una carta un'uso e getta e sarebbe una carta che vi arriva a casa di pagamento di us e getto un contratto diciamo questo tipo di azienda paga con carta di credito o di debito alla fine puoi pagare io tengo quella di debito perciò tranquillamente lo posso fare e utilizza la carta uso e getta karma nello stesso modo in cui paghi con la carta all'interno che è un'ottima soluzione importo carta massimo è di 582 euro che andrete a pagare al mese circa 194 interrate sarebbe pure un'ottima soluzione per pagare questi costo totale di 582 euro è un'applicazione che vi consiglio di scaricare con questo è tutto da tecno gg ciao ragazzi